L'integrazione inizia con la conoscenza e Papa Francesco lo ha testimoniato abbracciando tutti gli ospiti del Lab regionale di Bologna, uomini e donne che hanno affrontato indicibili avversità in cerca di un futuro migliore. L'incontro con i migranti è stato il primo che il Pontefice ha voluto per Bologna, dove si è recato per la conclusione del congresso eucaristico diocesano. In una città nota per la sua accoglienza e dove per la prima volta in Europa, 760 anni fa, si decise di liberare i servi dalla schiavitù, Papa Bergoglio ha rimarcato che il fenomeno migratorio oggi richiede visione e grande determinazione nella gestione, intelligenza e strutture, meccanismi chiari che non permettano distorsioni o sfruttamenti. Solo in questo modo sarà possibile arginare la diffidenza e la paura per lo straniero che non di rado degenera nell'intolleranza. Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei i vostri occhi, nel mio il vostro cuore. Voglio portare con me i vostri volti che chiedono di essere ricordati, aiutati, direi adottati. Perché in fondo cercate qualcuno che scommetta su di voi, che vi dia fiducia, che vi aiuti a trovare quel futuro la cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Ma sapete cosa siete voi? Sapete cosa siete voi? Voi siete dei lottatori di speranza. Qualcuno non è arrivato perché è stato inghiottito dal deserto o dal mare. Gli uomini non ricordano, ma Dio conosce i loro nomi e li accoglie accanto a sé. Grazie. 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 Grazie.